Dicevamo sempre, tutto tornerà come prima. Eppure la cosiddetta era Covid qualcosa l'ha cambiato e in positivo, perché negli ultimi due anni i pagamenti digitali sono cresciuti in media del 20%. Carte di credito e bancomat, agevolati dai dispositivi contactless, da strumenti come il cashback e dall'e-commerce, sono diventate una moneta quotidiana con cui gli italiani spendono i propri risparmi. Per fare qualche numero, nel 2021 i pagamenti digitali hanno montato in Italia a circa 327 miliardi di euro, 72 miliardi in più del 2020, con una crescita del 22% proprio nell'anno della pandemia. La Toscana non fa eccezione. Il report elaborato da ConfCommercio grazie ai dati di Samap, società che gestisce i pagamenti digitali, certifica che il numero medio di transazioni cashless è aumentato nel 2022 del 23,8% sullo scorso anno e addirittura del 112% rispetto al 2019. La Toscana è la quinta regione in Italia per pagamenti con carta, dopo Valle d'Aosta, Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna. Tra le province invece Firenze segna un più 34% ed entra nella top 10 nazionale delle aree dove l'incremento è stato più deciso. Lo strumento digitale di pagamento cambia anche le abitudini dei toscani. Se infatti tre anni fa si usava la carta soltanto per pagare cifre più alte, la spesa media era di circa 58 euro, oggi lo scontrino è molto più piccolo, circa 40 euro di media, vicino a quello nazionale di 44. A cambiare il quadro toscano e nazionale, come è detto, il mercato, ovvero gli utenti che hanno preferito questo strumento, forzato anche dalla pandemia. Insieme ad esso però anche alcune normative, come il decreto PNRR2 che ha introdotto sanzioni per i commercianti che non accettano i pagamenti con carta. Ad esempio, l'osservatorio pagamenti cashless di Samap ha registrato per i libri professionisti una crescita del 37% nel trimestre giugno-agosto 2022. I risultati, oltre che dai numeri, si percepiscono anche dal dato delle entrate tributarie. Questi pagamenti, infatti, totalmente tracciabili, contribuiscono a colpire l'evasione fiscale. Dai dati Istat emerge che i tributi versati dagli italiani sono aumentati oggi rispetto al pre-pandemia. Dai 470 miliardi versati nel 2019, siamo passati ai 496 del 2021 e quest'anno potrebbero arrivare addirittura a 515 miliardi. Sono tasse che gli italiani versano grazie alla ripresa dei consumi, ma anche alla forte emersione del nero dovuta, appunto, ai pagamenti digitali.